bentornati sul canale amici benvenuti ad un nuovo video anche oggi si parla di pokemon anche oggi si parla di collezioni sono anni almeno penso da quando al canale non sono tantissimi anni però sono alcuni anni che ripeto più volte nei video vi mostrerò la mia collezione più bella di carte pokemon non l'ho mai fatto e quindi finalmente oggi vi mostrerò quella che secondo me è la collezione più spettacolare di tutte le espansioni pokemon questo è il raccoglitore quale sarà la collezione ma io direi per il momento non vi spoilerò nulla andiamo allo sfondo e andiamo a vederla non è una collezione old quindi probabilmente rimarrete sorpresi però secondo me questa è in assoluto la collezione più bella e devo dire che comunque ha anche un suo valore soprattutto alcune carte ma al di là del valore secondo me è veramente spettacolare è veramente un set stupendo direi che ci spostiamo allo sfondo e andiamo a vedere di quale espansione stiamo parlando e andiamo a vedere quello che per me è in assoluto il set più bello di tutta la serie di carte collezionabili pokemon chiaramente potete non essere d'accordo con me non è il set base non è uno dei set dei primi anni però per me per una serie di motivi è il set più spettacolare ed è destino sfuggente destino sfuggente è un'espansione dell'era sole luna è uscita precisamente in italia e negli altri paesi il 23 agosto del 2019 mentre in giappone era uscita come sempre in anticipo il 2 novembre del 2018 come subset e potenziamento di tuoni perduti l'espansione si chiamava high class pack jacks ultra shiny questa come destino splendente e destino di paldea è una collezione che si compone di un set principale e di un set di ultra shiny in questo caso il set era chiamato shiny vault andiamo a vedere la collezione è stata una collezione spettacolare per me è ancora attualmente una collezione spettacolare sia per la bellezza del set che un po per tutta la storia perché quando ho iniziato ad acquistare i prodotti di questa collezione c'è tutta una storia dietro nel senso che ho acquistato tantissimi prodotti poi non avevo finito la collezione e poi ho conosciuto luca un altro collezionista e insieme ci siamo diciamo impanicati temendo di non trovare le carte che ci mancavano e abbiamo iniziato a comprare tutte le carte ultra shiny che non avevamo per fortuna perché dopo poco sono schizzate a prezzi improponibili in ogni caso abbiamo un set principale che si compone di 69 carte adesso andiamo a vederle precisamente 68 del set principale poi c'è una carta rara segreta e poi abbiamo il set speciale shiny vault che si compone da 94 carte ultra shiny in questi set dell'era sole e luna abbiamo i pokemon gx come vedete pincer gx charizard gx poi ci sono pokemon alleati qui abbiamo le carte come sempre inserite in una sleeve non le tiro fuori perché ho paura di rovinarle comunque come sempre abbiamo un set principale quindi carte comuni non comuni e rare non oro perché in sole luna e fino a spada e scudo c'erano anche le carte rare non oro e poi abbiamo le rare oro e poi per concludere il secondo set di oro reverse quindi come sempre doppio set le carte ultra rare sono singole pincer gx charizard gx andiamo a vedere le altre carte perché probabilmente molti di voi non avranno collezionato questo set perché all'epoca quando io ho ripreso a collezionare nel 2016 non c'erano così tanti appassionati e poi c'è stato il boom dal 2019 fine 2019 in poi qui abbiamo starmi gx gerados gx secondo me sono stupende queste carte come artwork un bel pikachu raichu gx poi proseguiamo non mi soffermo troppo sulle carte comuni non comuni rare normali il mio 2 gx quindi un set importante perché c'erano pokemon importanti onyx gx wigglytuff gx e poi abbiamo un moltres zaptos e articuno gx quindi la triade dei leggendari in versione ultra rara normale come sempre tutto il set degli addestramenti in versione normale o holo e reverse io metto sempre in una sleeve davanti la reverse dietro la carta normale o holo e poi arriviamo alle ultime carte del set principale come detto sono 69 quindi finiscono con moltres zaptos e articuno in versione hyper come sapete da scarlato e vioretto non esistono più le hyper quindi questa è una carta rara segreta e qui abbiamo le due full art addestramento esilio di giovanni e jesse james e un moltres zaptos e articuno full art anche questa è una carta molto bella e da qui parte il set che secondo me è veramente spettacolare delle ultra shiny abbiamo qui tutta una serie di baby shiny e poi l'ultima parte del set sono le ultra shiny gx quindi shitter rolet dartrix non ve li nomino tutti perché come sapete non li so pronunciare in ogni caso charmander e chermelion all'epoca erano carte strari cercate e stracostose non so come sono i prezzi attualmente per quanto riguarda le baby shiny so che le ultra shiny alcune hanno dei prezzi improponibili le baby shiny dovrebbero essere 45 secondo me sono le baby shiny più spettacolari cioè se confronto destino sfuggente con destino di paldea e destino splendente secondo me questo set anche se di dimensioni più contenute è il più spettacolare resta il più spettacolare ma per una serie di motivi anche per quello che era il mood dell'epoca e poi altra pagina di baby shiny si passa alle ultra shiny e qui devo dire spettacolo puro lithium gx decidueye gx golisopod gx come detto nonostante avessi comprato un'infinità di prodotti perché avevo veramente esagerato all'epoca per questo 7 ricordo di aver speso penso sui 2500 euro quindi un'esagerazione e ho dovuto comprare molte carte ultra shiny extra però c'è anche da dire che ne ho trovate tante doppie e comunque c'è da dire che ho trovato la carta più costosa del set che è il charizard gx che se non ricordo male attualmente near mint to mint è intorno ai 1200 euro non ne sono sicura comunque è una carta super costosa l'ho inserita in questa sleeve non l'ho più tirata fuori dalla tasca devo dire che il giorno che l'ho trovata ero felicissima perché all'epoca trovare questo charizard era veramente un evento comunque altre carte molto belle secondo me come artwork sono o gx reshiram gx poi abbiamo vabbè un turtonetor gx che non è un granché però nineties di alora gx e articuno glassion sono spettacolari greninja eletrode mi piacciono un po meno xurchi tree insomma però il gx anche questa una carta shiny molto costosa e spettacolare in ogni caso adesso vedremo le ultime carte ultra shiny anche l'espion gx banette nilego naganadel lucario zigarde e laica rock però se non ricordo male mi pare sia qui dietro eccola qui come vedete sono veramente una più spettacolare dell'altra laica rock altro artwork batswall questo ombreon mi pare che sia anche una delle carte costose comunque all'epoca non si sbustava così tanto quindi la maggior parte di queste carte hanno veramente prezzi notevoli c'è se uno dovesse iniziare il set adesso secondo me è abbastanza improponibile come spesa dark red gx guts lord shizor kartana staccatacca gardevoir anche questo sempre spettacolare il sylvion altaria neuvern sylvalli e drampa e poi abbiamo le carte full art in questo set di shiny vault ci sono anche queste carte allenatore speciali quindi dipendente della fondazione ether camilla un'altra carta molto costosa anche perché all'epoca era molto giocata pescatore guzman un'altra carta super giocata all'epoca e concludiamo sempre con le full art montanaro lady e qui ci sono le quattro gold allenatore zona protetta dell'ether paradise colina scrosciante monte corona e area del giudizio ma soprattutto i quattro tapu gold e devo dire che ricordo di aver comprato il tapu fini sui 70 euro queste quattro carte costavano veramente parecchio ho pubblicato anche uno short con la top 10 di destino sfuggente credo l'anno scorso però all'epoca ricordo che tapu bulu forse meno ma tapulele tapu cocco e tapu fini anche all'inizio costavano sui 50 euro anche di più non so se poi sono calate perché magari alcuni hanno deciso di vendere non completare il master set quindi il master set finisce qui con tapu fini e poi abbiamo queste carte promo andiamo a vedere un attimo quali sono e dove si trovavano allora metagross gx e zoroark gx si trovavano in due confezioni ognuna con una bolle non ricordo quali bolle erano comunque c'era la bolle e una serie di bustine mi pare 9 più la carta promo erano confezioni decisamente costose poi c'era una confezione che conteneva questo solgaleo gx promo gold il rayquaza gx shiny promo e il lunala gx promo gold che conteneva mi pare 7 bustine e costicchiava poi l'avevo anche trovata in offerta non ricordo quante ne ho comprate ma ne ho comprato una serie quello che ricordo bene è di aver venduto queste tre carte singolarmente all'epoca perché ne avevo una serie a pochi euro adesso non so esattamente ma se le avessi tenute devo dire che le avrei vendute stra bene soprattutto erai quaza e poi per concludere abbiamo questo charizard gx gerados gx erai 2 gx che erano le promo delle team quelle con quattro bustine le team relative che ho acquistato se volete le trovate ancora su car game club codice sconto dei uomini nerd come sempre che secondo me sono prodotti interessanti perché hanno la carta promo e quattro bustine di destino sfuggente si trovano ancora forse in italiano almeno recentemente le avevo viste poi abbiamo per concludere concludere il set delle energie olografiche come sapete nelle espansioni speciali ci sono sempre le energie olografiche nelle bustine questo set è particolare perché qui vedete l'energia folletto chi ha iniziato a collezionare da poco tempo non sa forse che esisteva anche un tipo pokemon folletto in sole luna con la relativa energia e poi hanno deciso di eliminare i pokemon folletto credo che siano stati assorbiti se non ricordo male nei pokemon psiche e quindi questa energia non è stata più presente per concludere completamente il set abbiamo questa promo che è la promo di moltres zaptos e articuno gx in questa versione spettacolare secondo me l'ho tenuta sigillata vedete la sleeve dietro ma è ancora nella sua bustina si trovava nelle tv di destino sfuggente quindi le bustine più questa promo e devo dire che ne avevo comprati un'infinità di etb anche queste promo le avevo vendute a pochi euro e se penso a quanto costa adesso devo dire mi sono pentita ma all'epoca volevo fare spazio comunque credo di averne tenuta una seconda di scorta per ricordo in ogni caso dietro vedete le sleeves di destino sfuggente che si trovavano negli etb ho riempito un po di pagine le ho tenute per ricordo perché comunque erano sleeves spettacolari e quindi ho pensato come potete vedere di riempire un po di pagine con queste sleeves questo è per me il set più bello della storia pokemon dal punto di vista della bellezza per me il più spettacolare dal punto di vista del costo del valore sicuramente ci sono set delle carte dell'epoca 1999 2000 2001 2002 più costosi però anche questo set ricordo di aver fatto una stima penso l'anno scorso due anni fa e comunque questo set completo con tutte le carte near mint to mint secondo me sui 4000 euro si attesta come valore poi potete dire si trovo le carte singole su car market si però comprate tutte le carte fate il master set e poi vediamo quanto avete speso perché queste carte non si troveranno da un unico venditore quindi secondo me questo è il suo valore io direi che per oggi è tutto lascio sullo sfondo la pagina con queste ultra shiny e il mio charizard preferito fatemi sapere se anche voi avete qualche carta di questo set o se anche voi all'epoca collezionavate e avete completato il master set perché sono curiosa nel frattempo mando a tutti un grandissimo abbraccio auguro a tutti una buonissima giornata h24 e ci vediamo presto con altri video e altre collezioni